questo è il tartello, allora cosa hai dentro? Spinaccia, albette, parmigiano e ricotta eh che pieno, questo è il tartello zucca, zucca patate e salsiccia, in questo invece c'è il radicchio con un po' l'aspetto va bene, perché io ho notato che in tutte le città c'è qualcosa di specializzato, in Italia è proprio così grazie 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 buon prmpre abbiamo il porto c'è l'italiano più importante per non ricerca su quello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.